Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar ideato da GMSL, Master Distributor in Italia per il software PTC MatCAD Prime. MatCAD è un software professionale per la progettazione tecnica ed è un potente strumento di analisi matematica, semplice da usare e da imparare. Nel webinar di oggi analizzeremo tutte le potenzialità di questo software, in particolare ci focalizzeremo sulle funzionalità che sono state aggiunte nella nuova versione, ossia la Prime 5. MatCAD è un software di tipo What you see is what you get. Cosa significa? Che non soltanto ha un'interfaccia utente user-friendly, ma anche che tutto quello che si vede sullo schermo è quello che si otterrà in fase di stampa. Infatti, tutto quello che l'utente crea in un worksheet non soltanto verrà stampato così come appare sullo schermo, ma sarà comprensibile per chiunque lo legga, anche se non ha dimestichezza con il prodotto. MatCAD infatti non richiede all'utente di imparare un codice particolare, ma per eseguire qualsiasi operazione matematica basta digitare la corrispondente espressione. La matematica in MatCAD si scrive e si legge proprio come se fosse scritta sul libro di testo. Una volta creato il foglio di lavoro è possibile inserire qualsiasi operatore. Ad esempio, in questo caso, potremmo decidere di inserire l'operatore integrale. E vediamo che è possibile quindi calcolare ed eseguire l'operazione interessata in pochi passaggi molto semplici. Vediamo, se vogliamo ad esempio calcolare l'integrale della funzione x quadro tra 1 e 2, scendiamo 2 come secondo estremo di integrazione, rispetto alla variabile x, solamente aggiungendo un uguale viene mostrato il risultato sullo schermo. Inoltre, una volta creato un foglio di lavoro, se modificati un dato di input, i calcoli che seguono tale dato, grafici compresi, saranno immediatamente aggiornati. Proviamo a fare un esempio in tal senso. Se invece andassi ad agire su una delle due variabili e sostituisco, quindi converto un valore, esempio il 3, lo posso far diventare un 2, quindi sostituisco un dato con un nuovo valore, vedo che la somma viene subito aggiornata e quindi il risultato della somma da 13 passa a 12 metri al secondo. Questo è soltanto un piccolo esempio, ma possiamo naturalmente intuire le norme di potenzialità che questo software può offrire. Andiamo ora a focalizzarci sulle nuove funzioni introdotte con la versione Prime 5. Queste riguardano in primis la creazione e la formattazione di grafici. Prendiamo in esame la funzione componenti grafico, e quindi aggiunta componenti grafico. Entriamo quindi nel cuore della creazione e formattazione dei grafici in due dimensioni. Eccoci qua, davanti a noi si apre subito l'area del grafico. Nella parte superiore è possibile inserire le due componenti, la componente lungo X, ad esempio X1 uguale a tempo, e una componente anche lungo Y. Se ad esempio lungo Y volessimo tracciare una parabola, possiamo inserire T2, ed ecco, ci appare davanti proprio il grafico di una parabola. Cliccando ora due volte sul tracciato del grafico, quindi nell'area del grafico, apriamo una nuova finestra relativa alla chart component. Vediamo come nella prima finestra sia possibile modificare lo stile del grafico, ovvero la formattazione vera e propria dello sfondo. E qui, ad esempio, potremmo scegliere un colore, uno stile, e modificare non solo il colore dello sfondo, come vediamo il riempimento, e scegliere appunto se lasciare un colore di tinta unita o un gradiente. Ma possiamo anche modificare il bordo del grafico, il colore, lo stile, lo spessore, ad esempio possiamo rendere lo spessore maggiore, lo spessore del bordo del grafico. Possiamo appunto anche agire sull'area del grafico e sul bordo dello stesso. Andiamo ora nella parte relativa alla leggenda. Cliccando su leggenda viene aggiunta all'area del tracciato la leggenda vera e propria. Anche qui è possibile cambiarne il colore, il carattere, la dimensione, nonché il bordo e lo sfondo. Andando invece nella sezione titolo, è possibile aggiungere un titolo al grafico. Ad esempio in questo caso possiamo modificare il titolo in parabola. Anche qui è possibile modificare il colore del titolo stesso. Lo spessore, l'angolo di inclinazione, la posizione e così via. Anche in questo caso è possibile agire sul bordo, ovviamente, e sullo sfondo. Andiamo ora ad analizzare le finestre relative alle assi, cioè l'asse X e l'asse Y. Andiamo in primo luogo sotto l'asse X. Possiamo anche qui modificare e formattare tutte le componenti relative all'asse stesso, quindi colore, stile, spessore, angolo di inclinazione e così via. Ovviamente facciamo tutto questo lungo X, ma potremmo farlo in ugual modo su tutti gli altri assi. Infatti, se andassimo lungo l'asse Y, troveremmo le stesse funzioni e le stesse opportunità di modifica. L'ultima tendina è invece relativa al tracciato vero e proprio della nostra parabola. È possibile, appunto, cambiare il colore, da blu possiamo farlo diventare, ad esempio, rosso, oppure è possibile sostituire la linea del tracciato con dei simboli. Ci sono altre funzioni, ad esempio quelle relative all'area, oppure, andando ad analizzare proprio altre finestre della matcal chart, troviamo la funzione asse, con la possibilità di aggiunta di un asse Y secondario, cioè dei nuovi dati possono necessitare di una differenza e scala di valori sull'asse delle ordinate, quindi aggiungendo questo asse possiamo gestire questa nuova raccolta di dati. Ovviamente, in fase di formattazione, sono disponibili tutte le funzionalità di formattazione e modifica che abbiamo visto per gli altri assi. Naturalmente, come abbiamo aggiunto questo asse, una volta utilizzato, è possibile anche eliminarlo, in caso non sia più necessario. Ecco qua. Vediamo altre funzioni semplici relative agli assi. C'è la possibilità di aggiungere, sempre sotto la funzionalità assi, delle griglie, orizzontali o verticali, sullo sfondo del grafico. Ecco qua, in modo da formare una vera e propria griglia sullo sfondo del tracciato. Con questo esempio abbiamo concluso questo webinar, in cui abbiamo mostrato come PTC MatCAD Prime 5 possa realmente offrire una serie di soluzioni dal punto di vista applicativo per la matematica. Visualizzare e graficare i dati non è mai stato così semplice e intuitivo grazie alla nuova completa applicazione di Plottaggio 2D che migliorerà il modo di annotare e presentare i vostri dati di progettazione. Per altre informazioni vi invito a consultare il sito www.gmsl.it slash matcad Grazie a tutti per aver seguito questo webinar e alla prossima!